un saluto a tutti ragazzi benvenuti di nuovo con un nuovo video nel mio canale oggi devo vedere come mettere photoshop sul nostro dispositivo android io consiglio di installarlo su tablet o telefoni con schermo molto grande per telefoni come il j1 quindi di basso costo e basse dimensioni consiglio di mettere un'altra versione di photoshop che trovabile su google che si chiama photoshop touch mobile se non sbaglio allora adesso andate sul link che vi metterò in descrizione che questo qua mai app e andiamo a fare install sempre se ce lo prende e facciamo clic e allora ci scaricherà il file dove installarlo io l'ho già scaricato quindi andiamo ad aprire il nostro photoshop touch ok eccoci apriamo per dire una foto a caso la mia copertina di pokemon luna vedete qua abbiamo tutti i livelli abbiamo i vari effetti vedete possiamo cambiare tutti tutti i vari effetti ovviamente è più limitata rispetto a quella per pc come versione e ok qua possiamo cancellare alcune parti a selezionarle vedete tipo coloriamole vedete adesso sono bianche possiamo aggiungere nuove foto livello foto duplica livello trasformare la nostra foto mettere un testo alterarla insomma è molto non dico simile alla versione per pc perché quella più completa però è molto comodo averlo sul proprio device io stesso la uso per fare le mie copertine e altre cose senza dover prendere ogni volta il pc e niente se vi è stato utile questo video lasciate un commento lasciate magari anche un like se vi può essere stato utile piaciuto e ci vediamo al prossimo video e buon natale a tutti ragazzi